Siamo qui a Ritmi Wellness 2013 con Raffaele Paganini e Anna Rosa Petri. Allora, qual è la novità di Vitasnella? Vitasnella quest'anno ha una novità, Vitasnella Well Dance, che unirà il mondo della danza insieme al fitness. Quindi, nonché il testimonial e il tuo al mondiale della danza classica, con io la testimonial dell'acqua Vitasnella, mondo e pop e jazz, si uniscono insieme in un'attività fitness. Lei è il testimonial di questa importante iniziativa, cosa ne pensa? Ovviamente, essendo il testimonial, ne penso benissimo. È la manifestazione migliore che faremo qui a Rimini, ovviamente, ma quello che penso seriamente è che è qualcosa che fa veramente bene, cioè questa unione tra l'arte e della danza, della danza classica, la danza moderna, la danza in pop e il fitness. Io credo che sia una condizione straordinaria, perché si può sempre crescere. E dato che la danza è la madre di tutte le discipline, perché non metterle insieme e non creare qualcosa di interessante? Infatti, con Anna Rosa abbiamo pensato appunto di creare questo Well Dance, che credo sia qualcosa di importante, perché? Perché non è solo per la persona fisica, ma è qualcosa che riunisce la famiglia proprio. È una cosa che si può fare mamma, figlio, papà e figlia, tranquillamente. E poi il bello di questa iniziativa è che tu alla fine di ogni lezione, oltre all'emozione, ti porti via, ma ti porti a casa anche la danza, ti porti a casa una vera coreografia. E di solito il terrore della gente è imparare una coreografia di danza classica, tutti così. E invece in questo caso no, noi saremo bravi, saremo tranquilli ad insegnare piano piano la coreografia, senza neanche fargliene accorgere. E quindi questo è l'intento di Bita Snella Well Dance.